Vediamo ora una possibile soluzione al problema di mancato avvio dei giochi con Windows 10 AppDate 2004. Può capitare che molti giochi che prima partivano e funzionavano bene, come ad esempio Horizon e altri giochi, possono avere dei problemi, per cui o escono subito appena si avvia il gioco, oppure vanno in crash dopo pochi minuti. Per cui andiamo in Start, Impostazioni PC, andiamo in Sistema, in Schermo, scordiamo, andiamo in Impostazione Grafica e attiviamo questa opzione Frequenza di aggiornamento variabile. Lo teniamo attivo. Preferenza Prestazione Grafica e Applicazioni Desktop. Questa opzione è presente su una generazione recente di schede video di medio-alto range, per cui di medio-alto a livello, come ad esempio ho testato dalla 7850 della Radeon in su, per quanto riguarda AMD, che sono schede video che io ho posseduto e che attualmente ho una RX 580 ed è attivabile. Se hai un notebook abbastanza vecchiotto vedrai solo questa opzione, per cui solo preferenze a registrazioni grafiche, mentre quest'altra no, però in quel caso è un discorso anche non applicabile. Per cui se ad esempio per i giochi nuovi hai questo problema che dopo l'aggiornamento a Windows 10, 2 e 4 i tuoi giochi vanno in crash, prova questa impostazione, per cui ti ripeti la procedura e attivi questa frequenza di aggiornamento variabile. Vai a caricare il gioco e vedi se funziona. Per cui volevo mostrarti questo, ti saluto anche il bloggino e grazie alle prossime tutorial.